Buongiorno a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Realtà Genoana. Allora ragazzi, Verona Genoa 0-0, il Genoa ha conquistato un punto d'oro con le unghie e con i denti, un punto fortemente voluto perché in questa situazione sappiamo benissimo che era importante cercare di portare a casa qualcosa e così è stato. La partita non è stata chiaramente delle migliori dal punto di vista tecnico ma le assenze sappiamo benissimo che erano importanti e sappiamo benissimo che anche quelli che hanno giocato si sono potuti allenare poco e male. Veniamo alle pagelle, Perin 7 ha salvato il risultato nel primo tempo su quella parata su Collei e nel secondo su quel colpo di testa con uno stacco di reni non indifferente. I tre centrali dietro, Bani e Maseallo sicuramente 6 e mezzo, a Zapata darei un bel 7 perché è stato direi impeccabile sia su Favilli che poi sul subentrante Kalinic. A centro campo da destra verso sinistra a Ghiglione darei un bel 6 e mezzo abbondante, anche lui propositivo in fase offensiva, ricordiamoci l'assist nel primo tempo a Pandev che poteva portare al vantaggio rosso-blu e anche preciso direi in fase di contenimento. Le due mezzali, Radovanovic 6, di sostanza lui purtroppo ha dei limiti dal punto di vista tecnico, però credo che il suo ce lo metta sempre, anche se spesso e volentieri è molto criticato. Rovella 6 e mezzo perché ragazzi ricordiamoci che questo ragazzo ha 18 anni e ha mostrato una gran personalità anche se con qualche piccola imprecisione però il giocatore c'è e si farà, deve crescere secondo me dal punto di vista fisico. Badeli purtroppo ieri ha fatto una prestazione insufficiente, 5, perché si vedeva che era molto stanco probabilmente dagli impegni con la nazionale e poi non era proprio a suo agio in un centro campo composto da altri due giocatori abbastanza compassati come lui. Secondo me Badeli per rendere al meglio deve essere in mezzo a due mezzali vere. A sinistra Xiborra è stato poco propositivo, devo dire, in fase offensiva, però in fase di contenimento il suo l'ha fatto, gli darei un bel 6. Le due punte, Shomurodov assolutamente da rivedere, 5 e mezzo, però non lo bocciamo ragazzi perché comunque ieri la partita era molto difficile e lui aveva tutte le attenuanti del caso. Pandev 6, si è dato da fare, anche lui poteva fare forse qualcosina di più sull'occasione che gli è capitata, però il suo diciamo che lo fa sempre. I subentrati, Berami senza voto, Goldaniga l'ho trovato un po' troppo irruento, sinceramente, subito un giallo, gli darei un 5 e mezzo, Ebuè in mezzo al campo, un altro ragazzo della primavera, dopo una prima palla sanguinosa persa e un calcio di punizione pericoloso per il Verona, direi che si è ripreso abbastanza bene, cercando di addormentare il gioco, 6. Parigini ha dato un po' di vivacità all'attacco, 6 e mezzo, abbiamo siorato il gol da una sua percussione sulla sinistra, Scamacca si è dimostrato più prima punta di Shomurodov, e ha mostrato anche delle qualità tecniche non indifferenti, 6 e mezzo. Bene, Maran, per come l'ha preparata, anche lui gli do un bel 7, perché sicuramente hanno passato tre settimane non facili, e quindi anche l'allenatore ieri mi è piaciuto, sia per come l'ha preparata all'inizio che per la gestione dei cambi. Per adesso è tutto, cari amici, mi raccomando, continuate a seguirci sulle nostre pagine social, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, e da pochi giorni sapete che siamo anche su YouTube. Mi raccomando, cerchiamo di far crescere anche il nostro canale YouTube. Buona giornata a tutti!